prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen san giovanni canzio aiutaci ad essere misericordiosi perché sappiamo istruire con amore gli ignoranti attraverso una sincera ricerca della verità che ci rende liberi che attraverso la tua preghiera lo spirito santo scenda su di noi e ci santifichi affinché noi possiamo essere pazienti e sinceri che lo spirito santo illumini i nostri pensieri e i nostri cuori perché nella saggezza possiamo assistere il nostro prossimo amen se ti chiami come il santo di oggi tantissimi auguri e per tutti la benedizione di dio raggiunga voi e le vostre famiglie ciao e a presto